La sua promessa manda aiuta riguardo le sciarpe, ma bisogna ovviamente usarle domani in massa con il Sieracruzio? Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo promesso ai tifosi all'inizio del campionato quando abbiamo scritto gli abbonamenti, anche se un po' ritardo l'abbiamo mantenuta, però è chiaro che le sciarpe, come dici tu, devono essere usate e devono essere usate per spingere questi ragazzi ad ottenere domani un grande risultato contro una squadra titolata che è ben fatta fino a oggi nel campionato. È una partita importante e difficilissima che noi dobbiamo intraprendere con il piglio giusto e con la giusta determinazione. È chiaro che sarà dura, però noi dobbiamo fare di necessità virtù, dobbiamo ottenere questi tre punti che ci possano permettere di guardare avanti con grande ottimismo.